appassionati allora sono qui presso diciamo il mio paese che c'è un parcheggio dove ci sono tutti questi camion e mi permetto di dire la mia sui camion moderni anche se so che magari mi attirerò delle critiche qua c'è l'iveco s way e vorrei diciamo parlare solo sull'estetica dei camion poi qua c'è un volvo fh e vorrei chiedere a voi se esteticamente vi piacciono perché a me i camion moderni onestamente non li trovo più belli come erano quelli di una volta per esempio l' s way solo sotto l'aspetto estetico non mi piace proprio trovo invece molto più bello il volvo anche se non eccelle soprattutto con quei fari a mezza freccia li chiamo io comunque sicuramente migliore poi va bene la cabina dello scania classica qui c'è un volvo fh 16 versione precedente a quella che abbiamo vista che a me piace e questo è uno degli ultimi camion che trovavo piacevoli insomma e qua di fianco c'è sempre un s way 650 n1 guarda hanno messo sulla scritta di un baffone 650 n1 l'hanno messa su beh la scritta è sicuramente meravigliosa e dimostra una grande passione però ecco non so voi che cosa ne pensate li trovate belli questi ultimissimi modelli di camion oppure la pensate come me che i camion di una volta erano migliori solo sotto l'aspetto estetico non voglio parlare della questione tecnologica che è ovvio e banale che sono migliori questi comunque con colore così è un po più bello diciamo rispetto al bianco parte che tutti i camion bianchi a me non piacciono è un colore veramente particolare il bianco che non fa risaltare l'estetica il giallo il rosso sono tutti altri colori e qui c'è in ultima questo scania super 500 r non saprei dire di che anno ma ritengo sia un camion ultimissimo comunque già dai un camion un po più bello dell' s way dal mio punto di vista non solo perché è rosso ma perché ha una cabina leggermente più classica a me diciamo non piacciono i fari particolari non piacciono questo qua è bello ma non mi piacciono nell'estetica i fari un po di forme strane un po come sono anche le moto moderne diciamo io sono ancora della generazione anni 80 mi piacevano le moto classiche i camion con i fari classici queste cose qua con questo stile ma questo diciamo è ancora vecchia scuola e quindi mi sembra anche un bel camion non so fatemi sapere cosa ne pensate senza aggredirmi verbalmente per favore ciao a tutti dallo stego